buona 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 sera anzi pomeriggio a tutti quanti ciao adriano buonasera ecco si è anche allungato il periodo solare per cui c'è ancora luce fuori buon pomeriggio sono le 5 da voi e le 10 05 da me oggi staremo un po su cortino perché boldrin ha un consiglio di facoltà le 11 in punto per fortuna ci posso partecipare in video non tutto il male viene per nuocere perché altrimenti avrei dovuto correre in ufficio abbiamo qualche problema di hiring dobbiamo litigare va bene e quindi in preparazione per la lite accademica che sono notoriamente le peggiori volevo ho proposto adriano di fargli delle domande mi sono messo a riflettere l'altro giorno sulla teoria giustizia di rolls che adesso magari illustriamo l'illustra di a non so brevemente per chi non la conosce e per delle cose che sto facendo su questo riflettendo e volevo volevo come dire pick the brain o va professor palma sul tema lui invece mi aveva proposto di parlare di tarsky però allora vi avvisiamo che su grande richiesta arriva tarsky magari anche oggi stesso se esauriamo l'argomento giustizia rapidamente però preparatevi un attimo perché tarsky siamo a livello kripke e quindi occorre prendere appunti quindi vi vorrei annunciare in anticipo la puntata su tarsky cosa dici così vengono con a me sembra di sì perché se la cosa è di interesse ho perfino raccolto una specie di lista di cose che si possono leggere tarsky è perfettamente leggibile però ammetto che sia una delle cose che è un po' dei filosofi abbastanza ostico se uno non capisce esattamente di cosa questo e quasi ogni frase è calibrata su un obiettivo preciso non è uno che si spende in in tiritere forse è meglio appunto che magari questo sia un annuncio che io stesso metta in coda a questa trasmissione di youtube un commento che è solo una specie di bibliografia corta delle cose che bisognerebbe almeno con lo meno le più chiare o forse o le più chiare le più facili che saranno tutte in italiano e promesso perché la cosa è scritta in polacco insomma ci sono degli aspetti un posti ci sono un po quelle robe da da professionali però è sia interessante che accessibile non è un pazzo che dice follia è uno che dice una roba molto particolare però la dice sia bene che giusta per cui io direi annunciamo solo questo magari il venerdì sera prossimo l'ultimo credo venerdì febbraio o penultimo mi ricordo più comunque verso la fine del mese e sì mi impegno a parlare di tarsky se la cosa vi interessa perché effettivamente è interessante in sé è una cosa vecchia di un secolo fa però è un po sempre il punto di riferimento delle discussioni sulla verità per cui vale la pena che la gente venga introdotta sulla giustizia invece aspetterei l'illustre accademico di misuri il professor boldrini che mi odirà ok 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 allora breve riassunto di come la mette rolls con a breve parentesi ancora più breve sulla parte che io trovo convincente la parte che non trovo convincente non trovo convincente l'assunto di fondo trovo convincente che se si propone una qualche teoria della giustizia dove qui giustizia va interpretato in realtà nel senso pubblico tanto per iniziare esiste la teoria della giustizia la morale del comportarsi bene privato che può letteralmente avere a che fare con me stesso pensate un po' alla questione cristiana sulla masturbazione ne le faccio le se è bene farsi le seghe o è male farsi le seghe è una questione fondamentalmente fra te e te stesso e al punto se assumi ci sia il signor dio quindi rolls teoria della giustizia e la giustizia pubblica il bene pubblico le politiche le istituzioni le leggi le tasse la spesa le scuole quelle cose quindi chiariamo questo e lui dice deve avere la caratteristica di universalità e qui ovviamente poi dipende come vedrete universalità in che senso per tutti i tempi tutti i luoghi tutti gli esseri umani che abbiano mai vissuto e che vivranno o generalità in un insieme più di più ristretto la sua proposta per un insieme totale di tutti la fondamento del contratto sociale l'approccio suo è a contrattualista cioè dobbiamo ragionare prima che il contratto sociale venga stabilito per decidere cosa deve contenere secondo punto lui dice non possiamo fare questa discussione sui criteri della giustizia se partiamo se partiamo dalla dalla situazione nostra storica contingente quindi dobbiamo cercare nella discussione sulla giustizia di assumere che noi siamo un al di fuori dalla condizione storica concreta in cui ci troviamo non siamo michele boldrin non siamo adriano palma a non siamo quello che volete voi nessuno di voi ascoltatori siamo un uomo generico che si pone il problema della giustizia e quindi lo fa da questo punto di vista bene questo a mio avviso richiede una posizione a storica cioè devi porti proprio il di fuori dal contesto storico perché qualsiasi e quindi devi anche assumere la non esistenza da un lato delle tecnologie delle capacità delle conoscenze che ci sono in un dato momento storico oppure assumerle tutte assolutamente tutte anche quelle che verranno che ancora non conosci però fare questa questa seconda operazione ovviamente scusate un attimo messaggio fare questa operazione ovviamente a me sembra impossibile quindi l'unico perché come faccio in qualsiasi momento storico io mi pongo il problema di stare al di fuori e al di sopra se non avrò la capacità di immaginarmi la totalità di ciò che viene e quindi l'unica alternativa ragionevole è immaginarmi che non c'è nulla non c'è nulla e qui cominciamo a entrare in quelle ambiguità con noi non c'è nulla c'è il mondo del neolitico qualcosa del genere li casca un po il palco del rolls a mio avviso poi rolls aggiunge una terza cosa questa è stata discusa così tanto e così tanto buttata via infatti per primo fra i primi fu kenaro a dire vabbè john era il periodo che era andato a harvard a stanford c'è john sei anche simpatico e ci hai provato però francamente sta roba produce delle conseguenze folli come voi sapete che è la cosa tra l'altro a no 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 la maglia con la scritta boldry banchiglia mi sono afferrato al volo creato un vecchio maglione perché in maglietta con le maniche corte faceva freddo ho aperto le finestre qui fa meno tredici dentro in casa fa caldo tengo caldo perché devo lavorare però avevo aperto le finestre per rinfrescare facciamo freddo la madonna mi spesso il maglione c'è scritto berberis ok ma pubblici non facciamo pubblicità per nulla quindi teniamo la mano ritorniamo allora poi lui dice quindi ok occorre bisogna essere in questa posizione che richiamo la posizione originale dietro al velo di ignoranza non sai chi sei non sai praticamente nulla del mondo sei solo un essere umano che deve vivere ma anche così dice sei cosciente che c'è una grande eterogeneità di esseri umani che verranno alti brandia donne uomini etnie diverse con formazioni fisiche diverse alcuni nascono con dei problemi altri nascono super dotati fisicamente cosa faccio quale punto di riferimento riconosce un problema vero che ci sono dei punti dall'eterogeneità umana rende il problema della giustizia sociale anche in via di principio anche dietro il velo di ignoranza comunque apparentemente irrisolviva perché devi scegliere il punto di vista e anche solo stando qua in casa prendi il punto di vista di adriano o quello di boldrino quelle cose possono coincidere ci sono delle cose su cui di sicuro non coincidere non coincidono e quindi cosa facciamo lui ama grande i notevoli sigoli avana a me interessa non più di tanto e quindi come facciamo allora lui dice prendiamo il max min costruiamo la struttura sociale il contratto sociale al fine di massimizzare l'utilità da quel punto di vista accetta l'idea dell'utilità il benessere la felicità della persona più sfortunata il max min come viene chiamato questo porta a conclusioni pratiche assurde ovviamente costruire il mondo intero l'intero sistema istituzioni sociali per massimizzare lo stato d'animo la felicità della persona in peggiori condizioni porta a conclusione e diventa comunque non non nemmeno ben definibile perché perché la persona in condizioni peggiori non è sempre la stessa dipende dalle regole che che introduci se tu introduci un mondo in cui si può giocare a palacamestro la condizione di alcuni migliora se tu introduci un mondo in cui non si può giocare a palacamestro la condizione di alcune persone peggiore potrebbe entrare a diventare potrebbero alcuni di questi potrebbero diventare i più sfortunati quindi non si rende conto che c'è una circolarità e cioè che l'essere il più fortunato il meno fortunato quello che è anche è endogeno non è dato a priori mentre lui si immagina certo dei determinanti fondamentali sono quelle fisiche chiamiamolo così genetiche mentali bla 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 però ecco poi mette dei caveat per attenuare l'effetto di questo maximi ma qui andiamo sul tecnico quasi economico ma non è rilevante non è rilevante perché il problema che volevo porre adriano è il seguente bene a me sembra ragionevole che una teoria della giustizia pubblica di come si disegna il contratto sociale se deve esserci sia abbia un certo grado di generalità abbia un certo grado di stabilità nel tempo quindi in particolare questo distrugge tutte le poli approcci tipo marxista o vagamente marxistoide materialista che dice no io gli interessi di una classe sociale di un gruppo sociale trecina classe sociale un gruppo sociale cambiano nel tempo anche perché cambia la composizione del gruppo sociale e quindi troveresti una teoria giustizia che cambia i due per due molto molto instabile tra l'altro se prendi interessi di un gruppo in maniera esplicita in ordine l'essicografico costruisce una teoria della giustizia sociale basata sulla conflittualità perché ovviamente o c'è un trade off o prendi una media degli interessi dei gruppi altrimenti ovviamente se io costruisco la teoria della giustizia sociale basata sul fatto che i sessantenni possibilmente del 56 cresciuti a venezia che una volta erano di sinistra adesso parlano di argomenti filosofici in rete dovrebbero avere tutto quello che vogliono diventa la guerra di palma e boldrigo tra il resto del mondo e non è una gran teoria della giustizia sociale quindi dovrebbe anche essere tendenzialmente non conflittuale bene e lì però mi blocco perché mi rendo conto che entro in un mondo circolare e mi blocco passo la parola al professor dunque povero jack rolls rolls aveva fra i suoi molti difetti di essere una persona seria per cui ha scritto questo famoso suo primo libro che appunto si chiama teoria della giustizia in 35 anni di veramente di diuturno lavoro è stato anche fortunato che non era l'epoca in cui la gente rompeva i cosiddetti su che cosa o quanto volte uno pubblica ogni sei mesi ogni 12 mesi ogni 15 mesi per cui nessuno ne ha mai detto niente dunque due caveat è il suo approccio completamente antistorico a mio avviso no la teoria della giustizia se andate a leggerla è fatta di due cose uno è il libro che si chiama teoria della giustizia che poi è stato raffinato revisionato e così via e uno si chiama legge dei popoli per lui questo tipo di teorie funziona solo in quello che lui intendeva e questo naturalmente un termine informale nelle società ragionevoli società ragionevoli grosso modo vuol dire le democrazie libere d'accordo questo non è affatto adatto alla società immediatamente post post profetica la mecca del primo secolo non è adatto all'uomo di neanderthal per tante ragioni di fatti lui stesso riconosce nella legge dei popoli nel suo secondo libro che questa cosa è è fortissimamente astratta se la vedete come una teoria politica della giustizia perché ad esempio presuppone che ci sia uno stato che ha poteri legislativi e così via se la pensate su scala planetaria non si capisce bene cosa avrebbe questi poteri c'è poi un aspetto questa idea di universalità la ottiene con questo famoso suo sì artificio insomma questa cosa che un esperimento di pensiero lui dice tu lettore tu persona che pensi a questa cosa dovresti vedere le tue scelte dietro un velo di ignoranza cioè dovresti ignorare una enorme quantità di informazioni su te stesso essendo questa una cosa scritta nel negli stati uniti degli anni 60 e 70 naturalmente devi ignorare di che gruppo razziale sei parte devi ignorare di che sesso sei e cosa decisiva devi ignorare se sei ricco o povero perché naturalmente rolls non era in questo senso un utopista lui pensava che esiste una componente di tutti noi che è molto egoistica e che quindi tutti i ricchi dicono beh insomma tutto il potere ai ricchi chi ha tanti soldi ha il diritto di fare il bello il brutto il buono il cattivo tempo semplicemente perché ha la potenza economica per comprare il parere degli altri quindi tutte voteranno con me perché se io do 500 euro ogni persona che vota per il presidente palma palma sarà presidente alla fine se palma abbastanza soldi per comprarsi gli elettori lui dice questa cosa no tu non sai se è ricco o povero allora lì comincia la parte interessante quando non lo sai come disegneresti tu questa cosa che michele chiama contratto cioè diciamo i lineamenti se volete di grunberg rif la legge fondamentale come la si mette allora quello che lui dice non è tanto che il più povero vada sempre favorito lui dice teniamoci alla nozione di giustizia standard a chiunque sia esso ripeto nero bianco femmina giovane vecchio anziano handicappato atleta o pigro che sta sempre a casa sua seduto su una sedia diamo a tutti ciò che si merita però la società e questa appunto la nozione di benbruglio ha diritto di introdurre distorsioni forti a piacere quante queste distorsioni devono essere sono appunto discussioni politiche queste distorsioni devono avere un carattere devono beneficare sempre quelli che stanno male cioè si può introdurre un effetto distorsivo la cosa semplice per mettersi in testa è facile da capire cosa vuol dire pensate a un sistema ad esempio medico naturalmente chi ha molti quattrini paga il suo chirurgo il suo dentista il suo cardiologo quello che volete voi chi non ha i soldi dovrebbe morire letteralmente di carie di cirrosi e di così via allora lui dice è giusto e se questa è la sfida la tua intuizione spiegami perché non è giusto che ci siano delle distorsioni cioè che anche la persona nel caso più estremo semplicemente perché è nato da genitori ricchi è ricco perché dispone di soldi verrà punito perché questa è una misura punitiva gli verrà tolto una parte di quello che sei legittimamente acquisito per favorire quello che non ha la mutua l'assicurazione sanitaria eccetera 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 questo è l'estento del suo contratto naturalmente questa cosa è eternamente discutibile perché la persona ricca o molto vicina a yale ha delle possibilità educative estremamente più elevate di uno che abita in bangladesh lui dice in una condizione ideale questa distorsione sarebbe giustificata si può far pagare a quello di yale il decuplo di tasse universitarie perché ci sia che ne so il 15 per cento di persone che vengono immesse a yale o a princeton o dove volete voi o alla bocconi non ha importanza che sia un'università sottunitense anche a spese di chi è più ricco questa cosa lui dice questa è la parte secondo me più controversa lui la basa sul ragionamento se volete di filosofia della psicologia lui pensa sia razionale stimare che tutti inclusi noi stessi la sfida se volete a ognuno di noi ma come la pensi tu di te se tu non sapessi che risorse hai appunto se sei maschio femmina o donne prendete il caso banale per lui è ovvio che se io non so se sono schiavo o proprietario di schiavi disegnerò una società in cui la schiavitù non esiste perché ho talmente paura di essere io a essere schiavo di un altro che dirò semplicemente la condizione ideale giusta è la condizione senza schiavitù naturalmente se permettete che il velo me lo alzi e veda che sono io il padrone spartano di milioni di lotti signor rose lei è scemo sto benissimo io ma chi me lo fa fare di liberare gli lotti perché devo essere punito di cosa sono io che sono nato guerriero della casta giusta che vuole naturalmente non so se sono nato leonidas o schiavo ilota nella campagna di sparta la sua intuizione che secondo me si può controvertire è una delle cose che a me personalmente lascia più perplesso è la seguente è vero o no che siamo tutti a questo punto opposti al rischio per scegliere sempre soluzioni di questo genere per intenderci non sapendo se io sia femmina o maschio scelgo una società di assoluta uguaglianza fra le femmine e i maschi perché sarei meglio in qualsiasi delle due come le categorie cadessi io non so in che categoria sono caduto so che sono vivo ma non so se sono maschio femmine non sapendo questo questo l'effetto della ignoranza la mia modestissima opinione è che numero uno c'è un aspetto in cui la strazione mostra la parte più più sdrucciolevole non è necessariamente sbagliata però si indebolisce bisogna avere uno stato che abbia le frontiere sicure cioè tutti i problemi di quelli che la tradizione politica il problema del guardiano di notte ma chi è che sta il cancello col col fucile è una cosa che deve esserci già perché se ad esempio se tutti noi tutti noi pensate ad una società a caso abbiamo solo il terrore che arrivano come nel nel romanzo di buzzati tartari dal deserto è interesse di tutti semplicemente pagare un'infinità di tasse per avere un'artiglieria enorme contro i tartari dal deserto semplicemente per sopravvivere perché se arrivano i tartari uccidono tutti quindi c'è già una società sicura all'esterno lui ha in testa chiaramente delle democrazie libere diciamo dei tempi moderni del periodo post roosevelt accordo del periodo in cui le democrazia sono riuscite di rifa o di raffa a mettere sotto tono la estrema minaccia autoritaria ai tempi di mussolini di itler eccetera eccetera in qualche modo si ottiene un equilibrio incerto con l'unione sovietica però c'era una forma di equilibrio questa era la società in cui si domandava cos'era la giustizia e la giustizia dove essere quella cosa sto molto semplificando ma vorrei che la gente in particolare chi non l'ha vissuto fosse una cosa dove non ci fosse bisogno di luther king dove le forme di segregazione etnica venissero semplicemente buttate via e ci fossero invece interventi crescenti soprattutto sul piano del sostegno all'educazione delle persone giovani più più malmesse che ci fosse un sostegno per esempio alle spede mediche notevole che tutto questo è utopico anche negli Stati Uniti dove di soldi in particolare a quell'epoca ce n'erano a Iosa questi soldi non sono stati invenziti in queste cose alcuni sostengono che parte di questo fosse una sua tentativa essendo lui un democratico di dare base filosofica quello che periodo johnson negli anni che scrive uno dei problemi del testo infatti che oscilla fra una desiderio almeno teorico no perché c'è il teorico di universalità e astratezza e una concretezza americana della fine anni 60 inizio anni 70 che insomma quindi come hai detto anche tu da mille cose per scontato che la teoria giustizia e poi si lancia in questa idea della dell'interpretazione della psicologia umana che dovrebbe valere in tutti i tempi tutti i luoghi no che infatti era la linea su cui volevo portare il pensiero nel senso che io credo che una ragionevole teoria della giustizia debba accontentarsi di livelli di universalità storica e cioè riconoscere perché se in tutto il ragionamento a me sembra che tu non sia d'accordo però a me sembra invece ovvio che lui assuma milioni di cose sulle tecnologie a disposizione sì 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 no no io sono d'accordo e quindi c'è questo ti rende qualsiasi nozione di giustizia te la rende storica ovviamente storicizzata perché chi è forte chi è debole chi è fortunato chi è sfortunato come hai detto tu nella sparta di allora è persona ben diversa da chi è forte chi è debole chi è fortunato chi è sfortunato nella boston del 1970 non c'è alcun dubbio difatti voglio dire rolls è in questo a me è sempre stato simpatico perché è come dire o l'ultima vittoria o l'ultimo grido prima della scomparsa di una forma della filosofia morale che è di ordine cantiano c'è una specie di enorme livello di astrazione in cui salta sempre fuori qualche pezzo sembra o ignorato o perfino eliminato nel senso che a me sembra ovvio che ad esempio non è assolutamente chiaro cosa sia la giustizia in termini militari nei termini di rolls bisogna pagare più per la difesa o meno per la difesa che è uno dei problemi politici di scala dal punto di vista de facto non c'è alcun dubbio lui era un signore isolatissimo harvard che era di estrema destra con una eccezione di un professore maoista nel dipartimento di filosofia uno che invece era proprio di destra 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 vuol dire nixon contro kennedy per intendersi e rolls era un po come dire come la sua generazione un signore che aveva visto il massacro assoluto della guerra che si era messo a studiare e raggiunto a queste conclusioni che ci voleva più giustizia che uno dei problemi era questo è universale secondo me appunto nel libro che lui ha chiamato la legge dei popoli non so se esiste in italiano ma è facilissimo a trovare lui stesso no non so se io si lo conosco cioè c'è proprio qua perché è uno dei libri che ho guardato con negli ultimi uno secondo me voglio dire può darci che io mi sbagli l'ho letto quando è uscito e non sono cose su cui ritorno spesso secondo me lui riconosce questo lui ammette che uno dei limiti di questa cosa che devi avere sostanzialmente ad esempio devi avere uno stato nel senso di detentore del monopolio delle violenze che è responsabile rispetto ai cittadini se tu hai di fronte semplicemente un tirannello cioè la bielorussia la corea del nord mussolini beh non è tanto chiaro che esista una teoria giustizia in questo senso tu puoi dire quello che vuoi quello che devi fare è la rivolta la rivoluzione la guerra civile quello che vuoi che non c'è nella teoria giustizia cioè non è vero che le forme della volontà politica si danno per questa specie di sofisticato balletto fra le intuizioni ad esempio appunto sulla propensione al rischio e a che livello di rischio e le costruzioni esterne cioè io avrei l'intuizione che tutti debbano essere miliardari palma interessante però le risorse sono finite non è vero che tutti possono essere miliardari alcuni sostengono anche di poter dimostrare che se molti diventassero miliardari avresti effetti appunto sullo sviluppo dell'innovazione e così via secondo me lui lo riconosce lato buono è questo afflato di provare a dare invece che dire come hanno sempre detto tutti i riformatori religiosi dai cartisti in inghilterra ai quakers negli stati uniti fino in larga misura a certe forme del marxismo non a tutte però certe forme sì non è vero che la miseria è ingiusta per conto suo cioè che è giusto uno scandalo che ci siano le persone a cui viene negato l'acqua il cibo il trattamento medico eccetera eccetera no no è ingiusta perché è in contrasto con una cosa che tu puoi razionali razionalmente capire naturalmente non la puoi razionalmente capire oggi perché perché ti sei tolto il velo dell'ignoranza palma sa di essere anziano di essere europeo di essere bianco di vivere in una città ricca se cade per la strada ad esempio palma sa che l'assistenza medica è gratuita eccetera 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 sono un mucchio di cose io non ho il velo l'ignoranza lui dice tu dovresti ragionare come se sì sì ma allora però proviamo a fare un esercizio voglio spingerla in positivo adriano by the way molti scrivono che ci sono la situazione in donbass e sì sembra che i russ putin non lo so c'è ragione di preoccuparsi ha annunciato che ci sarà un drill strategico di esercizi in cui fanno finta ovviamente esercitazione di lancio di missili interbalistici con armi nucleari e all'improvviso hanno costruito una situazione per cui stanno invitando i russi dalla zona del donbass eccetera ad andarsene offrendogli dei soldi a quelli a cui hanno regalato i passaporti dicendo che non possono vivere lì quindi suppongo che l'idea sia quella di costruire l'idea che l'atmosfera del programma sostenere che c'è un programma in corso e che c'è la pulizia etnica per poi intervenire e proteggere i russi che verrebbero programmati con rolls non c'entra niente non c'entra niente però molti mi hanno scritto anche sulla private allora lo dico quello che quello che mi sembra probabile a me sembra che putin stia vincendo farà una piccola guerretta in cui otterrà una forma di interpretazione dell'accordo di minsk in cui le repubbliche di donetsk blas donbass fino all'odessa diventano come cecenia cioè diventano dei protettorati e pur di farlo star buono appena basterà che faccia un missiletto qualcuno o esplicitamente o dietro le quinte gli dirà guardi in polonia ci sono i missili ma stanno fermi perché lo dico io come l'ha fatto ronald reagan come peraltro lo hanno fatto kennedy e khrushchev e lui ottiene quel che vuole la mia modessa interpretazione lui vuole una specie di forma di cuscino di sicurezza intorno alla russia che è impoverita indebolita se ci riesce senza fare morti spero beh insomma chapeau dicono i francesi da allevarsi non è detto beh c'è questo incontro in corso a monaco no in cui eccetera la cosa vogliamo proporre allora il problema dell'universalità un casino no e scusa il mio vicino scusatemi il mio vicino dietro ha deciso di fare casino con la legna sembrava messa giù la casa va bene e se uno però accetta la storicità della cosa si mette quindi accetta dice sono nel 2022 sono in italia e voglio cambiare le leggi voglio cambiare il contratto sociale pubblico secondo me non va bene questo a b c d f g ok no no voi ovviamente non sentite nessun problema lo sento io il problema è qua ambientale non c'entra nulla con la nostra connessione nel giardino dietro che punto di vista prendo certo posso prendere brutalmente il punto di vista di michele voldrini ci sono delle cose che mi piacciono c'è la maniera di vivere che mi piacciono non mi piace le persone mi sono simpatiche però è ovvio che divento un partito politico al meglio non posso pretendere di fondare tutto questo su una qualche criterio della giustizia la mia tendenza è dire prendo l'interesse prendo a cuore prendo come punto di vista l'utilità delle generazioni future e cioè l'unico livello di astrazione a cui riesco arrivare nel senso rolsiano perché lì c'è una legittimità nel suo ragionamento mi sembra che tu la condividessi cioè è legittimo dirsi se cerco di costruire la teoria di giustizia partendo dalla mia età dalla mia condizione materiale vabbè insomma è piuttosto si può anche reggere è anche molto cinica ma non è che sia molto convincente una cosa che posso provare a fare è dire costruisco una teoria di giustizia che massimizzi qualcosa l'utilità attesa l'utilità media delle generazioni future cioè di coloro che oggi non sono ma sono fra un minuto a partire da un minuto regge non regge altrimenti non so da che parte cominciare per riuscire a costruire la giustizia che non si riduca alla puro affermazione della mia forza dunque due cose sono in parte d'accordo con come dire alcune variazioni numero uno quanto questa cosa sia stabile e questo probabilmente va ancora nell'alveo di quella che chiami tu storicità le generazioni future la prossima certamente esiste l'avete vista sono i vostri bambini per chi ha figli la duecentesima prossima non si sa può darsi che ci sia una catastrofe sufficiente dal punto di vista ambientale climatico così via per cui non si sa quanto durino le generazioni future numero uno numero due se io avessi questo problema allora il quadro qui non è una pretesa di università è accettare da parte di jack rolls una sconfitta parziale non è vero che universale c'è questa cosa a pochissima presa in mi ammar per tante ragioni che è inutile adesso descrivere però rimane questa specie di impulso esiste una specie di equilibrio razionale che spinge certe cose secondo me la prima cosa da fare se uno fosse diciamo questo ipotetico partito ancora prima di dire quale scelta faccio decidere a che cosa si applica questa cosa mi spiego a molti sembrerà un problema un po idiota ma si supponga che ci sia un gruppo di persone a mio avviso piuttosto vasto in realtà nel paese in cui abita adesso c'è un partito degli animali che dice guardate che non è vero voi fate i conti sempre e solo con gli esseri umani invece quel che voi fate ha non solo ripercussioni a volte gravissime ma proprio effetti diretti sulla possibilità di sopravvivenza delle anatre delle galline dei vitelli delle pecore e così via ora capisco che la cosa sembra assurda perché domandare che ne so ai lupi che sono già abbastanza cretini cosa deciderebbe un lupo sotto il velo di ignoranza contro il velo sotto il velo di mangiare tanta carne tutti i giorni ogni secondo minuto tuttavia c'è molta gente che dice anche quello che chiamiamo gruppi non è necessariamente solo sono solo le generazioni future sì se questo si potesse come dire fattorizzare adesso e davvero vedo delle grandi difficoltà proprio legate a problemi di ordine sistemico cioè quando si fanno ad esempio a mio avviso una questione politica attuale veramente quale sia il modo sottolineo razionale e non isterico di trattare dei problemi ambientali che esistono cosa bisogna fare francamente non mi è chiaro ecco se esista un equilibrio razionale su questa cosa perché sicuramente le generazioni future se gli lasciamo un mondo prendo due casi estremi che probabilmente nessuno dei due verrà ad essere attuale pieno di scorie nucleari perché ci siamo talmente scocciati di mendicare il gas in siberia che produciamo una centrale nucleare a ogni secondo paese d'europa non paese la germania e la spagna paese nel senso di annuale e a portogruaro ne mettiamo due ma a zellarino no e così via può darsi che le generazioni future siano meno che oggetto di beneficio si mi sembra sensato tuttavia sento un po che ci sia anche una specie di scelta un po particolare perché bisogna essere progettati perché perché ad esempio cosa ci sarebbe di sbagliato nel decidere che questa è l'ultima generazione e ce la godiamo noi il più possibile incluso inquinamento inquinamento a manetta molti che commentano la serie prendo un po dei commenti che sono rilevanti però si deve dica è il commento generale poi ne leggo proprio alcuni qui non stiamo discutendo la teoria positiva della giustizia cioè come storicamente si sia realizzata quella cosa chiamiamo giustizia cioè come si sia fatta giustizia no come diceva è una cosa diversa dalla teoria normativa ora mentre nel caso della fisica delle particelle l'oggetto dello studio è come fatto l'atomo come fa come sono le forze che tengono insieme l'atomo non lo tengono insieme lo costituiscono e nessuno si sogna di mettersi a discutere di come dovrebbe essere fatto e nella natura stessa della teoria della giustizia ok porsi il problema normativo e quindi dire la giustizia esercizio del potere la giustizia e l'equilibrio qualche anno fa è ovviamente storica certo questo è una constatazione che io faccio e dalla constatazione arrivo però una affermazione normativa dico non può non essere anche normativamente deve essere storica deve accettare che esiste un'evoluzione nella intuizione personale di ognuno di ciò che è giusto e ingiusto la spiegazione della quale poi lo cercheremo come si pensava di parlarne sarà evolutionary biology sarà lo spirito che si incarna sarà il cavallo bianco di napoleone sarà quello che volete voi cosa determina è un fatto appunto che ciò che ritenevo giusto anche io 50 anni fa era diverso da ciò che io ritengo giusto adesso per non parlare delle persone in generale e del mondo a distanza di secoli quindi la natura storica della giustizia è sia un fatto che un aspetto normativo che discende da riconoscere che l'essere umano non è nelle sue intuizioni del bene del male assolutamente stabile nel tempo ne ha alcune molto stabili ne ha delle altre molto variabili bene quindi è tutto questo l'esercizio del potere qualcuno che dice che deve essere ottenuto deciso da tutti capisce edoardo signorelli quando uno mi dice altrimenti sarebbero stato in natura dopodiché ciò che è giusto non può che essere deciso tutti tutti chi è quello il punto che pone l'osservazione che ho fatto è che qualsiasi punto di vista immanentista che dica la giustizia la desideriamo oggi noi e domani quando Pino è morto ed è arrivato Caio la cambiamo perché sai la composizione del gruppo chiamato tutti che poi è un gruppo non definito ovviamente tutti chi nel dire tutti bisogna assumere a priori mille di cose l'esistenza di questi stati con queste forme costituzionali con questi diritti di voto con questi diritti di voto positivi elettorato positivo passivo e attivo definiti così perché altrimenti tutti è una parola che non vuol dire nulla prova a riflettere quindi se vuoi da quello ricavare una teoria normativa hai un problema perché il tutti cambia nel tempo quindi hai una teoria giustizia ogni settimana e non è una roba molto utile da farsi no quindi il problema che ci stiamo ponendo o che almeno io ho posto a Adriano perché mi sono posto io il problema è una cosa che sto scrivendo cosa mi fa sostenere che sia giusto ridurre le pensioni io mi sono reso conto che mi fa che quando parliamo del discuto dell'Italia o degli Stati Uniti utilizzo un misto di criteri di giustizia in parte argomenti tipo economico sull'efficienza ma è poca roba perché quasi tutto è redistributivo c'è moltissima roba che puoi fare in cui tutti ci hanno insicurato certamente tutti quasi tutto perché il 99,9 per cento è redistributivo l'ha appena mostrato Adriano cioè sulla questione dell'ambiente c'è obiettivamente un problema redistributivo intergenerazionale non ci sono cazzi cioè proprio non c'è maniera di potete voltare e girare come volete ha perfettamente ragione cioè non e quindi credete non è ovvio chi tutti siano e di nuovo ripeto ripetere che quello che si farà sarà il frutto di conflitti di forze interessi diversi valori ideologie che si scontreranno nella agone politico attuale quello mondiale nelle Nazioni Unite è solo descrivere i fatti visto che a questo agone partecipiamo che posizione prendiamo tanto per dire il partito di Boldrin cioè lui io cosa propongo comunque per dirmi cosa propongo devo pormi il problema normativo è inescapable la giustizia è è impossibile parlare di giustizia senza porsi il problema normativo guardate c'è un modo facile per a mio avviso per afferrare questa cosa nella seconda più anziana democrazia nel mondo che appunto dopo Cromwell non si chiamava ancora Regno Unito si chiamava ancora Inghilterra tutti erano tutti i maschi adesso sembra un po da ridere ma mi ha fatto ridere il ridere ma non è sarcastico mi ha fatto sorridere perché il commentatore quando dice e lo devono dire tutti guardate che fino a pochissimo tempo fa tutti voleva dire tutti coloro che sono biomaschi all'epoca non era di modo il transgender c'era meno dell'attuale difficoltà del sesso però guardate che è una cosa che non è banale cioè ad esempio abbiamo deciso che i bambini non hanno voce da zero a 18 anni non sei parte di quel tutte e tutti è giusto è sbagliato è una roba altamente controvertibile sul tema generale io da tempo ho provato a dirlo anche anche in questa trasmissione in questa serie di trasmissioni i problemi normativi non sono mai risolti da appellarsi a guardi che anche le scimmie si arrabbiano molto sedate a una tre banane e a quell'altra una banana la scimmia una banana comincia a urlare si si agita il che è perfettamente vero ma non è una risposta al problema normativo il problema normativo è sostanzialmente un problema di tipo mondo possibile il mondo attuale è fatto come vi pare a voi descrivetelo al meglio possibile spesso ci sono difficoltà descrittive importanti considerevoli però supponiamo che si possa descrivere anche molto bene a quel punto la domanda è tutto ciò è giusto è una domanda che è perfettamente sensata si può benissimo pensare che ci siano ragioni per cui ad esempio ci siano differenze biologiche genetiche se volete strutturali culturali chiamatele come volete voi tra i maschi e le femmine per cui si può decidere che le femmine devono avere che ne so meno diritti non è un'opzione astratta in arabia saudita le donne hanno meno diritti fino a poco tempo fa non avevano il diritto di avere un veicolo non potevano fare la spesa da sole che ne so non potevano andare al cinema cose di questo genere dopo ci sono dei particolari strani si può andare all'università se sei femmina ma tutte le università devono avere due porte per cui la classe femminile è sempre separata maschile si può all'infinito discutere ma è perfettamente sensato a mio avviso e vorrei che qualcuno mi dicesse perché non è sensato poter dire al principe saudi ma scusi guardi che lei ha torto è proprio torto normativamente non perché lui non abbia la storia della sua parte è ovvio che ha la storia della sua parte abbiamo sempre fatto così e da che ne so 1500 anni che si svolge così e lei che è un cretino peraltro addirittura cretino infedele cosa pensa di venirmi a dire e la mia risposta è le pongo una domanda di ordine normativo secondo me è sbagliato lì devo ragionare devo spiegare perché è sbagliato però la domanda normativa non si elude descrittivamente la domanda sulla giustizia è puramente normativa anche una volta che sapessimo molto di più di quanto sappiamo sui danni ambientali eccetera eccetera forse di riscaldamento universale non voglio andare nel dettaglio lì c'è proprio una domanda che mi dica cosa fare cosa è giusto fare e probabilmente siccome nel caso dell'ambiente che a mio avviso è centrale le scale temporali sono veramente di migliaia di anni forse di più contano solo le generazioni future cioè paradossalmente anche se io andassi in giro tutto il giorno con un camion diesel il mio effetto è proprio negligible è quasi ignorabile quasi non sto dicendo se tutti lo fanno tutto il giorno ma se un pazzo si comprasse che ne so un jet e va in giro per conto suo perché gli piace guardare la città dall'alto il suo effetto sarebbe bassissimo certo è molto difficile se uno decidesse che bisogna vietare di andare in aeroplano in cina o negli stati uniti bisogna andare in barca a vela allora lì sì si cominciano a colpire gruppi considerevoli di piloti di aeroporti di compagnie aeree di passeggeri naturalmente mi è una domanda proprio normativa e credo che non ci siano ci sono altri commenti scusate facciamo un po lezione io adriano dagli un'occhiata anche tu perché davvero io apprezzo moltissimo che tutti si siano molto animati va benissimo e adesso purtroppo io ho questo facolti meeting letteralmente fra otto minuti quindi devo purtroppo fare lo svizzero fra sette se adriana voglia di stare forse riesco ma lasciare la comunicazione aperta no e io devo purtroppo andare anche perché l'ho convocato io perché non condividono alcune scelte che si sta facendo quindi mi devo preparare una decisione molto meno amichevole molto più confrontation di quella che stiamo avendo però c'è una cosa ci sono alcune risposte che manifestano ingenuità ok per esempio che pensano che ci sono delle soluzioni e molta filosofia la serie lo dica no non andate a cercare la soluzione nei filosofi di questo di quello sapete perché perché ve lo posso dire tranquillamente non c'è una teoria giustizia che rega né ci sarà io credo si può provare al più a trovare a proporre dei criteri ragionevolmente condivisibili per un po date le contingenze ed ecco tutto quello che mi pongo cioè il problema di proporre un ragionamento di condivisione di come uno si potrebbe oggi approcciare alla teoria della giustizia applicata all'italia del 2022 le cose che ci sono da fare quali sono quelle giuste quindi un problema politico non un problema allora quindi affermare sì che la giustizia non può essere universale ma è relativa e però dire che i tutti devono essere quelli determinati culturalmente in un dato periodo anche quello non aiuta molto perché perché come ti ho spiegato i tutti doardo signorelli cambiano alla mattina alla sera quindi tutti non è una cosa e dire come un altro sostiene ritenendolo aristotelico che esistono dei sentimenti umani comuni a tutti gli umani in tutti i tempi di giustizia e su quello dovrebbe importarsi la giustizia improntarsi la giustizia da un lato dice semplicemente che tu sai quali siano questi sentimenti umani innati comuni a tutti e in realtà non lo sappiamo quindi ti crea un problema sposta semplicemente il problema dall'altro lato e cioè discussione in evolution psychology o chiamalo come voi su cosa sia davvero il senso di moralità innata e dall'altro praticamente insufficiente perché ha messo non concesso che riusciamo a mettersi d'accordo che esistono quattro nozioni di giustizia che tutti condividiamo abbiamo sempre condiviso dubito perché giulio cesare non potremmo mai intervistarlo e sono sicuro che ponzio pilato e il cristo avevano due nozioni di giustizia molto diverse visto che uno ha inchiodato l'altro sulla croce non risolverebbero i problemi che abbiamo davanti perché non sarebbero del tutto ineffettivi rispetto alla questione di ma le pensioni del taglio le aumento le centrale nucleare ne faccio altre sei come decise francesi o continuo a negare anche solo di prendere in considerazione come fanno gli italiani quindi cerchiamo di non approcciare io credo la discussione possa essere interessante se non approcciamo il problema assumendo che esista una soluzione offerta da un filosofo del passato qui do la parola finale adriano sia delle riflessioni poi se capita ci torniamo ormai le conversazioni abbiamo più argomenti che tempo a disposizione andremo anche su tarsti credo la settimana prossima magari quella seguente ci riflettiamo un po di più e io ripropongo la questione della giustizia in termini normativi guardate non cercatelo nei filosofi per quanto sia interessante anche per una ragione specifica non c'è nessuna forma che neanche tende a convergere su un consenso ci sono tanti dissensi c'è un gruppo di persone che è il rolsiano che pensa che sia giusto sviluppare questa forma di come si può dire di egualitarismo universalista in questo senso particolare astraendo il più possibile c'è un altro estremo che sono appunto per intenderci i personaggi nella storia ti stile thomas holtz l'unica cosa che giusta è dare a un sovrano praticamente onnipotente quasi un faraone dell'egitto e tutti si adeguino perché questo vi garantirà lunga vita senza guerre senza minacce tutto il resto state zitti le opzioni sono enormi io mi proporrei sì la settimana prossima di parlare di tarski che oltretutto al vantaggio che se ne capisce un po di più di che cosa sia giusto c'è un leggero non tanto leggero c'è un considerevole aumento di comprensione di cosa stiamo facendo qui io voglio dire chiudo perché sono quasi le sei e non voglio rompere le scatole tantomeno interrompere le guerre accademiche che sono come noto violente in proporzioni inversa all'importanza del fatto cioè chi è il prossimo bidello nella facoltà diventa una svegli roba come chi è che va a invadere l'ucraina e così via comunque le battute a parte la mia personale posizione è che se la questione della giustizia abbiamo un problema politico non abbiamo un problema filosofico io sono uno che ha scarsa fiducia nelle soluzioni normative per tante ragioni d'accordissimo abbiamo un problema politico ma che nella politica che posizione prendi io al momento al momento quando la buttata pessimista prima di bere la roba giusta sono dell'idea che abbia ragione benatar cioè chiudiamo bottega e lasciamo che lo reghino i lupi gli orsi gli avvoltoi quando sono leggermente più sobrio sobrio anch'io sceglierei le generazioni future nel senso che per una ragione abbastanza banale mia nipote che ha 30 e passa anni probabilmente ne ha un altri 30 40 50 io no quello è proprio un problema di se c'è una specie di obiettivo generale godere nell'ambito del godibile quel che ti resta della vita la mia speranza di vita è ovviamente bassa quella di mia nipote è quasi ovviamente alta voglio dire è un fatto quasi statistico poi certo ci sono gli incendi stradali quelli che hanno un tumore eccetera però nessuno muore a 180 anni quindi una persona che ne ha 32 33 probabilmente a 20 30 40 anni da sgurarsi sul pianeta il sottoscritto molto meno se dovessi scegliere una politica si è meglio abbassare le pensioni e colpire i gestori di spiaggia so che in popolare ma questo prende una posizione politica che è l'unica cosa giusta che si può giustificare argomentare tutto qui sul piano molto generale di due commenti vi consiglierei davvero di considerare che le considerazioni come dire sull'attualità generano nulla di normativo di qualsiasi considerazione fosse se sia giusto che i romani abbiano i gladiatori schiavi che si uccidono nel nell'arena se sia giusto che quello che volete voi che l'imperatrice cinese uccida la manicure che gli ha fatto male le unghie se sia giusto io ne so che punto il problema aperto perché il problema è che è inutile provare d'altra parte a fare una proposta politica se non convinci se non provi a convincere qualcosa quello che tu dici è giusto comunque io vi direi buonasera buon weekend e quello che volete voi preferisco non restare solo perché davvero mi sento io più facilmente e venerdì prossimo ci sarà una cosa più strutturata quando Michele Boldring mette questo su youtube metterò un commento che vi dà come delle letture Adriano ha voglia io domani a quest'ora sono libero ma ci sentiamo dopo devo scappare perché i miei colleghi mi attendono scappa mandami un messaggio dopo posso anche parlare domani magari ci senti domani alla stessa ora e andiamo avanti ciao ragazzi ciao a tutti buona serata ciao ciao